Siamo con Massimo della pasticceria Balloni, Massimo la situazione dell'acqua è ancora critica, non arriva l'acqua nelle case, neanche nei negozi, nelle belle pasticcerie come la tua, qual è la situazione? Per il momento si aspetterà tempi migliori. So che ci sono dei problemi anche ovviamente in tutto, nella posizione della produzione, e quindi qui vedo che per esempio ci sono ancora una serie di... Da pulire, si aspetterà che venga. Certo, certo. Da voi quando manca? Da quando è iniziata a mancare esattamente? Da ieri pomeriggio. Da ieri pomeriggio. Io mi sono accorto ieri pomeriggio quando ho iniziato a lavorare che mancava l'acqua. Certo, va bene. Vi ringrazio, grazie alla pasticceria Balloni.